La scoperta è chiusa dai carabinieri in un alloggio di via Custonza 7 Torinese, una centrale dello spaccio. Un uomo di 28 anni italiano è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. Durante la perquisizione dell'appartamento i militari hanno sequestrato un chilo di marijuana. Quando sono arrivati i carabinieri, senza appuntamento e fingendosi clienti, l'uomo non ha aperto la porta. Per poter entrare in casa i militari hanno aspettato l'arrivo di un cliente. Quando il push era aperto la porta per far uscire l'acquirente, i carabinieri hanno fatto irruzione in casa. Il cliente è stato perquisito e nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato 50 grammi di marijuana. A parte l'emotivo è stato denunciato.